Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi saluto con i capelli un po' scompigliati, è uno di quei giorni in cui non vogliono proprio stare a posto, ma faremo finta di niente. È un trucco super sobrio. A parte gli scherzi, oggi voglio parlarvi dei prodotti che ho scoperto nel mese di febbraio, che non sono tantissimi, ma ho delle belle chicche qui davanti a me. La maggior parte di questi prodotti li ho utilizzati non stop e me ne sono follemente innamorata. Per questo sono pochi, ma usati veramente tanto e con tanto amore. Iniziamo da un rossetto che mi ha letteralmente fatto perdere la testa. Alcuni di questi prodotti, i primi che vedrete, mi sono stati mandati da Look Fantastic e c'è un codice sconto che è JULIATREND25, che vi dà diritto al 25% di sconto su tutti i prodotti che vi faccio vedere e tanti altri. Il rossetto in questione è di Bare Minerals e si chiama, aspettate che ve lo dico, Mineralist Hydrosmoothing Lipstick. È scritto talmente piccolo che è difficilissimo leggere. Di Bare Minerals avevo soltanto provato il loro fondotinta, quello famosissimo minerale, e devo dire che mi era piaciuto, ma non mi sono trovata ad utilizzarlo più di tanto. Questo rossetto aveva catturato particolarmente la mia attenzione, non so per quale motivo, perché in realtà non l'avevo visto neanche da nessuna parte. Semplicemente quando ho aperto la pagina e me lo sono trovato lì, ho detto sembra bellissimo, ed effettivamente è così. È uno di quei rossetti cremosini che vanno più sulla formulazione di rossetti classici, quelli morbidi, belli, confortevoli, ma comunque dà il colore pieno. Ed è esattamente così, facilissimo da indossare. Adesso c'è purtroppo questo cruccio delle mascherine, ma è veramente un ottimo rossetto, si applica benissimo, rimane molto morbido sulle labbra e il colore mi piace da morire. Va più sul nude di base arancione, ma comunque contiene un po' di rosa all'interno, per questo è abbastanza facilmente abbinabile a praticamente tutti i look che indossate, proprio perché è molto molto neutro. Il colore che ho io è Insight, e sinceramente dopo averlo provato voglio provare altri colori, perché è veramente eccezionale. Mi piace moltissimo, abbinato con la matita umile di We Make Up, che in realtà è stato un colore creato da Kami Ok, in collaborazione con We Make Up. Più o meno la tonalità è la stessa, ma la matita risulta un pochino più scura. Io che faccio metto la matita su tutte le labbra e poi il rossetto sopra. L'effetto che esce fuori è di labbra definite, leggermente più scure sull'esterno e sempre più chiare verso l'interno, belle morbide, dal colore pieno. Mi piace veramente tantissimo, anzi mi piacciono tantissimo i due prodotti, sia singoli che abbinati insieme. Parliamo ancora di Bare Minerals, e purtroppo devo dire che è un brand che si sente poco nominare in giro, ma sinceramente dopo aver provato il rossetto che vi ho appena mostrato e questa palettina, penso proprio che proverò altri dei loro prodotti, perché questa palettina mi ha proprio fatto innamorare. È una roba eccezionale, a partire dalla qualità degli ombretti fino ad arrivare alla selezione colori. A parte che è piccolissima, questo significa che entra perfettamente nel kit di tutti i giorni, ed è esattamente questo, è una palette perfetta per realizzare il trucco di tutti i giorni. L'ho utilizzata tantissimo in questo mese, ogni volta che la mettevo mi scrivevate Giulia hai un trucco pazzesco oggi. Questo perché gli ombretti si sfumano e si applicano benissimo. È formata, come vi dicevo, da soltanto sei ombretti, ma sono perfetti da miscelare tra di loro. I due opachi sono uno di media intensità e leggermente più caldo, l'altro è un pochino più scuro e di base. Va, vira più sul rosso, ma è strano perché ha comunque una base fredda. Questi due applicati nella piega dell'occhio si sfumano benissimo, risultano belli pieni. Riuscite sia ad avere una sfumatura abbastanza leggera, se ci andate con mano leggera, oppure a calcarli, avere qualcosa di un pochino più forte. I quattro brillanti sopra sono in realtà non dei super metallizzati. Se li applicate così da asciutti, sono più dei satinati facilissimamente portabili. Se invece li bagnate, assumono un po' più di carattere perché risultano più luminosi, ma comunque si fondono benissimo sia con gli opachi che se volete abbinarli tra di loro. Mi è piaciuta veramente, veramente tanto e vi posso dire tranquillamente che questa è diventata una delle mie palette preferite. Anche su questa ci potete applicare il 25%. L'ultimo prodotto che mi hanno mandato da Look Fantastic è una palettina di Too Faced ed è una palettina per il viso composta da tre illuminanti. È questa qui, era tantissimo che volevo provarla e devo dire che è entrata nel mio cuore. È composta praticamente da tre illuminanti che hanno tre intensità di brillantezza diverse. Il primo qui al centro lo potete usare facilmente anche sul contorno occhi per andare a illuminare la zona perché non contiene glitter, ma comunque è di quel opaco, non piatto ma semi luminoso che va a illuminare la zona. Come vi dicevo non si vedono i glitter, quindi non è che state applicando l'illuminante in questa zona. È molto molto simile alla mia amatissima polvere chiara che utilizzo per illuminare il contorno occhi di KVD Beauty. Veramente sono molto molto simili. L'illuminante medio che è questo è un bellissimo illuminante da applicare sullo zigomo, è molto carino anche da mettere come ombretto. Il terzo, questo qui, è quello che mi piace di meno perché è un illuminante abbastanza forte ma che contiene un pochino più di glitter. Ormai sapete che mi piacciono gli illuminanti che sono luminosi ma che non fanno vedere le pagliuzzi all'interno. Questo è un po' su quel genere, però le altre due polveri sono veramente eccezionali. In questo video voglio includere anche un prodotto che non sto provando da tantissimo ma è una di quelle cose che quando le provate dite come ho fatto a vivere senza fino adesso. Ed è un olio struccante, è di un brand che si chiama Dear Klairs. Ne ho sentito parlare online, siccome cercavo un buon olio struccante ho detto vabbè proviamolo. In realtà senza troppe aspettative, l'ho preso veramente così per dire vediamo che cosa esce fuori. Se mi piace è una bomba ragazzi, strucca che è una meraviglia. Ne prendete una pompatina così, lo andate a lavorare sul viso asciutto, lo massaggiate per un paio di minuti e scioglie tutto e dico veramente tutto. Il mascara, avete presente che quando vi struccate delle volte poi vi rimane un po' di nero tra le ciglia, questo toglie tutto. Non brucia assolutamente, anche il viso quando poi lo andate a sciacquare lo sentite completamente pulito. E mi viene quasi da dire, non mi sono mai struccata così bene come faccio adesso con questo prodotto qui. È veramente veramente eccezionale, continuerò a testarlo e sono sicura che ve ne parlerò anche in altri video perché mi sono veramente innamorata tantissimo di questo olio di Dear Klairs. Mi raccomando se utilizzate un olio struccante, un balsamo struccante, qualsiasi cosa che sia oleoso, dopo dovete andare a risciacquarlo con un detergente acquoso che deve andare a togliere tutto l'olio dai pori. Ultimamente mi stanno piacendo molto anche un nuovo stile di ciglia finte che ho provato che si chiama Blaze. Che è questo stile qui, adesso non è che riuscite a vederle proprio benissimo anche perché sono all'interno della confezione. Aspettate che le tiro fuori. Guardate, sono fatte in questo modo, non penso che capirete nulla ma me le avete viste indossare in tantissimi video perché le ho portate veramente veramente tanto. Sono più corte sull'angolino interno e sempre più lunghe verso l'esterno. A differenza di quelle che indosso adesso che sono molto simili ai mochi per lavare per terra, queste risultano leggermente più naturali perché sono un pochino più corte e fanno vedere molto meglio il trucco che c'è dietro rispetto a quelle che ho adesso, cioè se io vi guardo così con gli occhi completamente spalancati non riuscite a vedere tutto quello che c'è dietro come se invece guardo verso il basso. Queste sono un pochino più corte e lasciano vedere meglio il trucco che c'è dietro. La forma mi piace tantissimo e ve le consiglio se volete allungare l'occhio. Se vi piace quell'effetto tipo occhio da gattina, da cerbiatto, prendetele perché sono esattamente quell'effetto lì. Ho scoperto anche un altro balsamo labbra che mi piace tantissimo. Anche questo l'ho preso senza alcuna aspettativa, proprio così mi sembra carino, prendiamolo e proviamolo. È di un brand che si chiama Farm to Fresh, non lo conoscevo assolutamente, ho dato un occhio all'inci e mi sembrava ok e quindi ho deciso di provarlo. Il prodotto in questione si chiama Honey Lips ed è appunto un balsamo labbra al miele. Qui dentro c'è tantissimo prodotto, sono andata a dare un'occhiata in un normale burro cacao, ci sono 4 ml e invece qui ce ne sono 20. Ve lo dico perché il prezzo è leggermente più alto di un normale balsamo labbra o burro cacao, siamo intorno agli 8 euro, ma capite bene che la quantità è molto diversa. La sensazione che vi dà quando lo applicate è semi oleosa, va a coprire bene le labbra, le va ad ammorbidire, non risulta né troppo acquoso tipo i balsami della labello, non so se ce l'avete presente, io è tantissimo che non li utilizzo. Non vi dà quell'effetto siliconico e super scivoloso sulle labbra, ma allo stesso tempo non risulta neanche troppo oleoso, cioè proprio come se avessi applicato un olio. È una bella cremina leggermente oleosa che ammorbidisce le labbra, lo sto utilizzando veramente tantissimo, mi è piaciuto un sacco, se cercate un buon balsamo labbra vi consiglio di provarlo. Questo mese ho scoperto anche un altro fondotinta che mi è piaciuto un sacco, che è quello che indosso adesso. È il fondotinta nuovo di Maybelline che si chiama Super Stay Active Wear, è quello che dovrebbe durare fino a 30 ore, anche se come vi dico sempre non so chi è che porti così tanto il fondotinta perché la sera sarebbe meglio struccarsi, ecco. Quando l'ho provato inizialmente non è che mi ha sbalordita più di tanto, però sapete che invece continuando a provarlo mi è piaciuto sempre di più. Oggi l'ho applicato per la prima volta con la spugnetta e devo dire che mi piace molto di più applicato con la spugnetta rispetto con il pennello. Siccome è abbastanza denso e si asciuga molto in fretta, vi consiglio di lavorare una zona del viso per volta. Se lo mettete su tutto il viso e piano piano ve lo andate a sfumare, è possibile che vi faccia le macchie proprio perché si asciuga molto in fretta. Io invece con la spugnetta sono andata proprio a tirarlo perché comunque ha una coprenza medio alta e questo è l'effetto. Dà un effetto semi cipriato abbastanza poco all'inizio, poi durante la giornata si ammorbidisce un po'. L'effetto non è proprio naturale perché comunque la coprenza è abbastanza alta, però allo stesso tempo non risulta pesante sul viso. Poi ecco, ce l'ho su adesso, quindi giudicate un po' voi. Devo dire che mi sta piacendo molto. Al nuovo fondotinta di Maybelline ci affianco anche un rossetto sempre di Maybelline. Questi due prodotti mi sono stati mandati da Maki Beauty. Anche per Maki Beauty ho un codice sconto per voi del 10% che vi faccio sempre comparire qui sopra. E come al solito vi metto tutto in descrizione, anche i link di tutti i prodotti che vi faccio vedere in questo video. Questo rossetto è veramente un sacco bello, il colore è super particolare. Torniamo un attimo indietro, fa parte dei Super Stay Matte Ink di Maybelline che sono i rossetti fatti in questo modo. Ma è una sorta di edizione speciale dedicata al caffè o al cioccolato, ve l'ho detto anche l'altra volta, me lo dimentico sempre. E hanno fatto uscire 5 o 6 colorazioni sulle tonalità del marrone che sono veramente molto belle. Non sono i soliti marroncini perché hanno dei sottotoni molto particolari. Anche questo è molto molto particolare e mi piace veramente veramente tanto. A parte che durano tantissimo e a me questa formulazione di rossetti piace un sacco, per il momento mi sembra tutto. Sono sicura che mi sto scordando qualcosa ma negli ultimi giorni qui nel mio studio c'è stato un bordello tale che non riuscivo neanche a camminare. Dovevo fare lo slalom tra i vari cartoni e roba buttata per terra organizzata per fare i vari video. Quindi per il momento questi sono i miei prodotti preferiti, poi se mi dimentico qualcosa ve lo faccio sapere per i vari social o ve lo metto nel prossimo video dei preferiti. Io spero tanto 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 che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e vi abbia tenuto compagnia. Ricordatevi di lasciarvi un po' di amore iscrivendovi al canale, lasciandomi un mi piace, un corricino, un commentino, insomma quello che volete. Fatemi sapere quali sono stati i vostri prodotti preferiti del mese appena trascorso. Io vi mando un grandissimo bacio, diamo il benvenuto alla primavera che non è arrivata adesso ma arriverà tra qualche giorno. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimissimissimo nel prossimo video. Ciao!